Salve ragazzi, sono Deuteri e oggi faremo il logo del funky taco su un vetro Allora, iniziamo così Ok, non vedo niente perché sto guardando No, niente, rifacciamo, cancellato, sbagliato Rifacciamolo, allora così Poi gli occhiali, ok, i baffi, ok I capelli con il pettine tutto ci va Perfetto, e niente, colato tutto